Oggi abbiamo anche l'opportunità di presentare lo staff che seguirà invece il settore giovanile nell'organigramma che ritengo sia doverosamente corposo per testimoniare una cosa molto importante che è contrariamente a quello che magari si poteva presumere o pensare, il settore giovanile ha una grandissima valenza da parte della società e da parte del mister Morgia con il quale ho avuto un contatto con la persona che adesso presenterò, a voi tutti ben nota, come sono noti anche gli altri componenti di questo organigramma perché già facevano parte nella quasi totalità di quella che era la forza giovanile del Siena negli anni trascorsi. Quindi ho il piacere di dirvi che noi avremo, Ruggero dice, all'interno della nostra società Robussiena con i ruoli che gli vengono indicati in maniera ufficiale che è quello di un responsabile tecnico coordinatore del settore giovanile, in stretta collaborazione tecnico-tattica e diciamo da un punto di vista anche organizzativo nel momento in cui alcune delle squadrette che sono sotto la prima squadra, parliamo degli uniori sia anche gli anievi, si integreranno in una determinata maniera. Con lui abbiamo una persona che a Siena ha giocato, Argili Stefano che è qui presente, che è lì, poi oltre a lui abbiamo Pierangili che è un rientro dopo un anno in cui ha collaborato tecnicamente con il Mazzola, aveva precedentemente svolto la sua attività qui nella Cisiena. Poi abbiamo Roberto Maffei il quale avrà il compito di fare il preparatore atletico, di svolgere questo lavoro che già faceva gli anni trascorsi qui a Siena, assieme a Paolo Becchini che invece è il preparatore dei portieri. Quindi diciamo che dando un segno di continuità anche su quelle che erano le cose positive che il Siena e la Cisiena ha rappresentato da un punto di vista tecnico e che la Robur Siena, manifestando la volontà del Presidente Ponte, mia, di Morgia e di Radice con il quale abbiamo avuto modo di parlare e di interfacciarsi in questi momenti, siamo in condizione di proporre, grazie all'intervento sempre, e non mi stancherò mai di dirlo, di quanto rappresentato la Policlass in questo frangente, nel momento che ci ha dato questo tipo di opportunità.